e adesso vi parliamo di quanto sta accadendo dentro la casa del grande fratello in maniera particolare fra abier martinez e la bella ballerina napoletana shayla gatta che mettiamola in questa maniera galeotto è stato il goco della bottiglia fatto sta che fra di loro c'è stato un bacio a stampo dopo il quale il pallavolista ha confessato che shayla le piace dietro domanda diretta di how in a quest successivamente c'è stato il bacio a stampo del gioco della bottiglia ma oggettivamente entrambi sembravano molto coinvolti successivamente ilaria clemente si è chiesta se riusciranno mai a mettersi insieme ma a quanto pare jessica morlacchi non ha dubbi ci riusciranno perché li vedi molto complici e stanno ragionando e ha dichiarato qui parliamo di un ragazzo super educato rispettosissimo con un grande tatto e tanta sensibilità e lei è allo stesso modo una ragazza tanto carina secondo me anche fuori si sarebbero conosciuti così andando per gradi perché non sono due persone di fuoco loro sono più di testa mentre noi siamo più carnali sono vano di testa si devono parlare devono capire anche lei ragiona tanto ha tanti valori vuole un uomo che non la tradisca che viva per lei che sia educato avranno anche un po di paura e ci sta tutta shayla gli interessa davvero e si vede per come si rapporta con lei elena e lorenzo invece sono una pantera e un koala loro sono più istintivi e infatti si vede per come si comportano